19 giunta con il numero 26, Persia, con il numero 37, Vitali, Stoia, assistenti, Basile di Chieti, Carpi, Melchiorre, Dior Vieto, quarto ufficiale. Porta! Con il numero 8, dietro la due! Con il numero 8, dietro la due! Con il numero 8, dietro la due! Con il numero 7, dietro la due! Con il numero 7, dietro la due! Per centrare la due! Ab Grazie a tutti. Per il Catania ha segnato Rosaria. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.